L'idea da cui nasce l'iniziativa è proprio quella di rendere gli spazi dell'isola fruibili durante tutto il corso dell'anno perché Capri è un'isola che merita di essere vissuta non solo nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale e quindi quello che vuole realizzare questa prima edizione della manifestazione è proprio quello di creare un circuito virtuoso che renda le persone partecipi degli spazi che possano immergersi nell'arte in questo museo diffuso Grazie